Vai sul sito skytv.it, registrati entro l'11 giugno, potrai vincere un fantastico viaggio per due persone e visitare Parigi, Londra, Lincoln e Edimburgo, i magici luoghi del film Il Codice da Vinci. Partecipa subito e parti con Sky. PGA European Tour BMW Championship, da giovedì 25 maggio, su SkySport 3. Cosa potrà mai succederti se mangi solo hamburger e patatine per 30 giorni? Un indimenticabile documentario nomination all'Oscar sul cibo dei fast food. Super Size Me, con uno speciale in esclusiva, mercoledì 24 alle 21 su Sky Cinema Autore.